Sport Nautica 2-4 ruote, giardinaggio. Apre i battenti l'edizione 2023 di Expo Levante, la fiera dedicata al tempo libero. Dal 22 al 25 aprile, quattro giornate piene in Fiera del Levante a Bari per chi ama riempire il proprio tempo libero di hobby e passioni. Oltre 250 espositori e tanti ospiti attesi. Tra i vari padiglioni anche quello dedicato agli animali. Un'area è invece dedicata al vintage market, un'alpa dell'Expo Village e un'al football village. Presenti anche i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, con stand dedicati al lavoro quotidiano svolto per la sicurezza del paese. Anche le auto d'epoca hanno trovato spazio in un'area loro dedicata, area visitata anche dal sindaco della città Antonio De Caro, presente al taglio del nastro che ha inaugurato Expo Levante. Oggi inauguriamo una delle manifestazioni di punta della Fiera del Levante, l'Expo dedicata allo sport, al tempo libero, al benessere. In un momento particolare, che è il momento in cui magari sono migliorate le condizioni meteorologiche, le persone hanno voglia di vivere all'aria aperta, di fare sport e di impiegare il proprio tempo libero. Cambiano gli stili di vita, nel passato era impensabile vedere tante persone fare attività sportiva nei parchi sul nostro lungomare, oggi invece è accaduto. Cambiano anche i consumi, ma noi siamo testimoni del fatto che la Fiera del Levante è riuscita a stare al passo con i tempi. Questa è una fiera importante per la città e per gli operatori economici, quindi vogliamo fare gli auguri alla nuova Fiera del Levante con questa manifestazione importante per tutti noi. Grazie.